Che Sampdoria Luigi Ferraris, che Sampdoria, mamma mia ragazzi, complimenti a questa squadra che aveva fatto pure il 4-1 appena adesso, solo che è stato annullato, poi magari vedremo perché avevano appena fatto il 91esimo il 4-1 con Fabio Quagliarella comunque grande Sampdoria che a Luigi Ferraris vince per il risultato di 3-1 e quindi con questa partita andrebbe a quota 17 punti, quindi decima un punto sotto la Lazio mentre il creatore, il poverino comunque rimane ultimo a 6 punti insieme al Torino però comunque fuori casa con la Sampdoria non è che ci si potevano aspettare i miracoli allora siamo al 94esimo e abbiamo visto che ha segnato il 26esimo Damsgaard con assist di Yankto che oggi ragazzi Yankto era in giornata di grazia poi 10 minuti dopo al 36esimo arriva il raddoppio della Sampdoria quindi 2-0 con gol di Yankto che prima aveva fatto l'assist ad Amsgaard e poi però al 45esimo più 1 quindi quasi allo scadere del primo tempo arriva accorcia le distanze il crotone con Simi Nuanco da rigore cioè il suo rigore, quindi il primo tempo finisce così poi al 65esimo ci pensa a quasi chiudere la partita si può dire Fabio Quagliarella mandando in rete il pallone del 3-1 al 65esimo su assist di Albi Nectar poi appunto 2 minuti fa aveva segnato il gol del 4-1 sempre Quagliarella però è stato annullato, gol annullato dal VAR Candreva appena entrato prende palla sulla fascia e mette un pallone in aria dove Quagliarella schiaccia di testa e manda in rete ma il centrocampista italiano si trova al momento dell'assist in posizione fuori gioco e intanto finisce qui la partita quindi ragazzi grande Sampdoria, qua vedete velocemente le statistiche e niente direi che noi ci becchiamo alla prossima con un prossimo post partita probabilmente di Parma e Juventus non lo so probabilmente le partite delle tre, ciao ragazzi